Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Con la vittoria in trasferta contro il lauretto, il città di Teramo, con sette gare ancora da giocare, si avvicina sempre di più all'obiettivo dell'eccellenza, mantenendo nove punti di vantaggio sulla Turris Val Pescara. Un altro ostacolo dunque è stato superato e la società sta iniziando a pensare al futuro e soprattutto ad ampliare la base societaria. La notizia del giorno è che ieri mattina, nella sede di Via Muzzi a Teramo, si è svolto un importante incontro tra il presidente di Rastelli e il direttore generale Romolo De Baptistis, con il commercialista Alberto De Angelis, che è il referente di un broker, Gruppo Assicurativo di Milano, pronto ad investire un'importante somma nel settore giovanile del Teramo e nella prima squadra. L'incontro prevedeva la presa in visione dei bilanci della società. Le parti torneranno ad incontrarsi domani sera, la location San Benedetto Teramo. In un clima di grande soddisfazione, in Casa Biancorossa, a fine gara domenica, ha parlato l'esterno difensore mancino Mario Andreozzi, riduce da un inizio difficile di campionato per un brutto infortunio, ma domenica è tornato titolare. Abbiamo giocato con molte difficoltà, siamo riusciti a avere una supremazia sia tecnica che fisica. Oggi per te non era semplice scendere in campo, giocare al posto di Di Giacomo, un giocatore che ha dato tanto al Teramo, però ti sei disimpegnato molto molto bene. Sì, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, anche se veniamo da un lungo infortunio, comunque cerchiamo di dare il 100%. I biancorossi torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio alle 16 al Besso di San Nicolò e saranno da valutare le condizioni proprio di Mario Andreozzi, che domenica, a fine gara, zoppicava vistosamente per un ematoma alla caviglia sinistra e in mattinata si sottoporà ad esame radiografico per escludere un'eventuale frattura. Matteo Di Giacomo invece ha un problema muscolare di tendinopatia e continua a sottoporsi a terapie, ma i tempi di recupero non sono così brevi. Il difensore Cristian Cangemi, mercoledì, farà una lastra di controllo al dito della mano destra in cui ha subito un'infrazione.